Stacco della macchina, velocissimo ed allarga Medusa de Mura che prende il comando, senza che c'è l'errore di... Non lo fa stessa, ti sono fatto, non ti faccio. ...di macchi che trova posti in terza posizione lungo la corda, all'esterno avanza dalla seconda fila Narcos MP che è colto, ottimo lancio, intanto cacciare i salti trini i 200 metri in Narcos MP, va subito a chiedere strada da Medusa de Mura che di solito corre meglio sotto, infatti da strada libera, quindi nuova di strada, Narcos MP, prima i 400 metri in 34, sempre in seconda posizione Medusa de Mura, poi notte di note, Magic in quarta posizione alla corda, intanto siamo mai al continente dei primi 600 metri, all'esterno vediamo avanzare le tribune con Narcos MP, battistrada davanti a Medusa de Mura, poi notte di note, Magic, poi ancora il Zanatria all'esterno in schiena Mike, sono Lucio M, poi anche Marlin ZM, gira in 1-2-4, ora il battistrada arriva sulla penultima curva, sempre davanti a Medusa de Mura, sarà mai al continente del chilometro per il figlio di Alizio Mello, completato in 1-1-7-3, ora rettilineo delle scuiderie, sempre in terza posizione alla corda, notte di note, davanti a Magic, scendono in difficoltà a Mike all'esterno, fanno tutti fatica ai cavalli di fuori per il ritmo abbastanza veloce del battistrada, 15-3 alla pressione delle scuderie, allunga Narcos MP che sembra padrone della situazione, ai primi 600 metri, l'ultimo di notte, poi anche Magic con le Zanatria, ultimi 200 metri, 15 secco la curva, Narcos MP mette vantaggio in retta d'arrivo, Narcos MP conduce su Medusa de Mura, dove difendersi dall'attacco intero di notte di notte, ma Narcos MP viene a dominare su notte di notte, che è il suo posto per Medusa de Mura su Magic, 1-1-6-7, la migliorchia,